ultima neve di primavera negli anni 70 c'erano questi film così lacrimevoli tipo love story ecco questi film qua in cui poi il personaggio alla fine muore quindi proprio ci si si piange un po un effetto catartico no mi ricordo che andavamo con i miei amici a vedere i song remains the same dei led zeppelin che erano proprio ore ore di concerto durava non so durava tre ore mi ricordo era abbastanza lungo è una bella cosa perché per noi che non potevamo fruire della musica live almeno a quei livelli c'è le zeppelin ci sognavamo di vederli per cui ci accontentavamo dei film oppure di woodstock non so fruivo questo tipo di cinema legato alla musica grazie grazie a voi